Il Consorzio Tassano Servizi Territoriali è presente da oltre 20 anni sul territorio dell'Evante Genovese con soluzioni e servizi. Lo fa anche oggi, lo farà ancora di più con un nuovo soggetto, Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale. Sarà una cooperativa A più B, ossia con la doppia funzione di svolgere servizi, attività e progetti utili per le persone nel campo sociale, educativo, sanitario e di politiche attive del lavoro e nello stesso tempo rispondere a quel bisogno di inclusione lavorativa delle fasce più fragili della popolazione, quelle che hanno maggiore difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro. Negli anni il Consorzio ha erogato servizi nei settori dell'educazione, della scuola, dei giovani, dell'ambiente, della disabilità, delle fragilità e per il mondo del lavoro, impiegando ad oggi 406 persone, due terzi donne, al 70% a tempo indeterminato. Il Consorzio ha lavorato da sempre con e per il territorio. Questo è il valore più grande perché significa non solo offrire dei servizi al territorio ma significa riuscire a generare un impatto su tutta la comunità, che fa crescere la comunità e lo porta verso una direzione di sviluppo territoriale, sociale ed economico. I bisogni negli anni sono cambiati. L'impresa sociale deve essere sempre più un'impresa di comunità e la trasformazione più importante è quella legata al non essere più dei fornitori di servizi ma dei produttori di benessere, di benessere per la collettività, nella consapevolezza che non si è soli e non si può essere soli a fare questo quindi bisogna farlo insieme, tutti insieme a livello di comunità. Credo che anche le istituzioni debbano cambiare postura nei confronti dell'impresa sociale non aspettarsi che erogano i servizi o che sia un braccio obbediente o servile all'amministrazione pubblica devono sfruttare, saper sfruttare le opportunità dell'impresa sociale perché ha quella capacità di connettersi con la comunità e di interpretare quei bisogni, quella domanda che esce e soprattutto di aggregare risorse. Il tema è quello dello sguardo sui bisogni del territorio e della capacità di coprogettare con altri enti e con le istituzioni i servizi necessari a generare bene per quelle stesse comunità. Per coprogettare è necessario che ci sia una disponibilità all'incontro e che quindi tutti i soggetti di un territorio, dalle istituzioni, dal terzo settore ma anche i privati siano disponibili a guardare ai bisogni della comunità e insieme provare a trovare la strada per risolvere, andare incontro ai bisogni o arrivare a portare innovazioni per il bene della comunità.